I dipoli possono essere utili per un po' visualizzare il campo, nel senso che se voi prendete dei dipoli e trovate un modo per dissipare un po' di energia perché deve essere... Quello che ho cercato di dire è che questa direzione qua, la sto disegnando leggermente con un tratto leggero, con la freccia verso il passo, è l'orientazione di equilibrio stabile di un dipolo elettrico. Se il dipolo elettrico è messo così... per cortesia, silenzio totale, siete ospiti. Se il dipolo, se un dipolo elettrico messo in mezzo a questo campo uniforme è orientato così e la tenete ferma, è lasciata presa, lui con la configurazione non rimane e comincia a un moto oscillatorio, oscilla attorno alla direzione di equilibrio stabile, questo angolo qui cambierà nel tempo e soddisferà un'equazione che a rigore non è un'equazione lineare, per piccoli angoli può essere linearizzato e per piccoli angoli il comportamento di questo dipolo è come un oscillatore armonico. è una buona approssimazione a rigore non è un oscillatore armonico, oscilla d'accordo ma non è un oscillatore armonico a rigore, solo quando gli angoli sono molto piccoli, in modo che sia di teta sia confutabile con teta la descrizione si avvicina molto a quello di uno oscillatore armonico. e quindi se questo oggetto avrà una certa energia che è già un continuo travaso tra energia di movimento e energia di posizione, se voi trovate un modo per dissipare l'energia, allora lentamente questo moto oscillatorio si sborzerà e alla fine il dipolo si assisterà a essere nella direzione di equilibrio stabile. Quindi, sentite, sono già stanco, ho già 4 ore sulle spalle, devo fare altre 3, ok? Quindi, mi raccomando, silenzio là in fondo e silenzio voi. Signorina? Silenzio. La sento? Ho l'orecchio fino. Sì, lei con la maglietta salmone. Senza un meccanismo di dissipazione di energia, questo oscillerebbe per sempre. Se riesco a trovare un modo per dissipare l'energia, allora avrò lo sborzamento, avrò un'oscillazione sborzata e l'abbiamo discussa. Come vedete, questi argomenti sono una fonte di idee per esplorare il programma, ok? Uno avrà che lentamente l'angolo da cui questo oggetto parte, comincia a passare del tempo, l'angolo avrà un oscillatorio, una pseudo oscillazione, cioè non è un'oscillazione vera, c'è un tentativo di andare a tornare e si smorzerà. E alla fine, sempre a patto che il comportamento oscillatorio domini su quello dissipativo, no? Se questo dipolo riempissi questo, non so, di caprame, è ovvio che la resistenza viscosa, la forza viscosa sarebbe troppo importante e non avrei affatto un comportamento del genere, avrei piuttosto un comportamento dove lui parte da questo angolo e dopo epoche geologiche lentamente questo decade. È ovvio che io sto parlando in questo contesto e quando il comportamento diciamo elastico, diciamo torsionale e più importante dell'effetto viscoso. In ogni caso, prima o poi, ahia, qualcosa è dato dall'occhio. Spero che sia qualcosa, vedo ancora. Lentamente l'angolo, quale angolo? L'angolo misurato dalla dimensione dell'acquilibrio stabile, l'angolo lentamente va a zero. Quindi l'angolo tende a zero. O in maniera, oscillazione sbursata, o in maniera, diciamo, di morte esponenziale. Quindi, se io aspetto abbastanza tempo, sempre ammesso di avere un meccanismo di dissipare l'energia, cosa vedo? Vedo il dipolo puntare così, proprio parallela al campo elettrico. nel contesto magnetico stessa cosa. Se ho un modo per smorzare, per dissipare l'energia di questo dipolo magnetico che sta oscillando attorno alla direzione stabile, lentamente, dopo un tempo sufficiente, vedrò che il dipolo è allineato col campo magnetico. Quindi, questi dipoli diventano un modo per visualizzare il campo. Allora, storicamente è stato proprio fatto così dal signor Faraday, che fu il primo a pensare di visualizzare l'effetto del campo elettrico e del campo magnetico, usando dei dipoli. Per esempio, il classico esempio che si fa, penso anche nelle medie, o potrei farlo anche nelle scuole elementari, è di prendere dei, come si chiama in italiano? Limatura di ferro, ecco cos'è limatura di ferro, che sono essenzialmente polvere di ferro, sono piccoli aghetti, magari se voi guardate sotto un lente di ingrandimento, vedete che sono in realtà dei piccoli aghetti, li mettete in un campo magnetico, cosa succede? Dopo un po', cioè se voi avete una calamita, un foglio di carta e versate sopra questi filamenti di ferro, vedete che i filamenti disegnano uno schema, cioè si dispongono una forma, che stanno in qualche modo aiutandovi a visualizzare il campo magnetico, cioè ogni picco filamento di ferro si comporta come un dipolo, e quindi si orienta come è il campo magnetico nel posto dove lui si trova, un altro filamento lo messo in un altro posto si sarà orientato in maniera diversa, e quindi come tutti questi filamenti si orientano, vi da un modo di visualizzare come è la dipendenza del campo magnetico dallo spazio, e la stessa cosa con il campo elettrico, fare dell'uso dei sementi, non mi ricordo, ci sono dei piccoli semi di fiore, che venivano polarizzati dal campo elettrico, e poi di fatto anche questi si raddrizzavano un po' come delle bussole, però non sono bussole magnetiche, sono come delle bussole elettriche, e si orientano, e voi vedete, lui riusciva a visualizzare in questo modo come era il campo elettrico, in funzione dei vari punti dello spazio, se voi avete, non so, qua c'è una calamita, poi voi vedete, non voglio rappresentare il filamento, no, pensate a una bussola, casomai durante la pausa vado su, mi prendo il mio sacco con alcune bussole, negli anni ne sono sparite diversi, vengono rubate di presto, poi le persone non me le ridanno indietro, la bussola, cos'è una bussola? di fatto è un dipolo magnetico, e lui si orienta, a seconda del valore del campo magnetico in quel punto dello spazio, io avevo dei dipoli magnetici, di piccole bussoline, che avevano dei difetti, cioè in realtà non c'era un meccanismo molto efficace di dissipazione di energia, quindi quando io lo mettevo in un campo, loro lo fanno così, e solo dopo un po' si fermano, invece la bussola che usa il campeggiatore o il navigatore, tante volte c'è un liquido dentro, in modo che l'ago, il suo moto oscillatorio, viene smorzato, perchè se non c'è un meccanismo di dissipazione, l'ago messo in un campo, mica si raddrizza, scilla attorno alla direzione, solo dopo un po' si assesterà, quindi se l'ago c'è dell'attrito sul suo perno oppure nuota in un liquido, allora avrete un comportamento o di questo tipo o di questo tipo, e si assesta nella direzione dove il campo magnetico punta, che so, in questa direzione, quando voi avete il laghetto che è così, uno che è così, se lo spostate qua è così, se lo spostate qua è così, se lo spostate qua è così, magari l'ago ha una freccia no? che rappresenta la freccia M, quando il campo magnetico è così, M volerebbe raddrizzarsi con B, certamente lui oscillerà, però se lo smorzate lui fa così, e quindi voi spostando la bussola, state sondando la direzione del campo magnetico nel posto dello spazio dove la bussola è, quindi la bussola sta cercando di orientarsi a un dipolo magnetico, lo schema è identico per un campo elettico, questi semini che si polarizzano, cosa vuol dire? che il semino magari ha una forma lunga, messo in un campo elettrico una parte diventa positiva e una parte diventa negativa, cioè questo è il campo elettrico, si polarizza in questo modo, ma proprio per quello diventa un dipolo, e quindi lui di fatto si orienterà nella direzione del campo elettrico e potete visualizzare il campo elettrico, quindi questo è un primo tentativo mio di introdurre il concetto di linee di campo, cioè è un concetto che io odio, non mi piace il concetto di linee di campo, invece è un concetto che viene molto insegnato a livello elementare, a me non piace molto perché le linee di campo non sono cose reali, e possono anche cambiare il loro aspetto a seconda del sistema di riferimento in cui vi trovate, quindi lo studente che ragiona in termini di linee di campo fa bene fin tanto che vede che è uno strumento artistico per un po' catturare certi aspetti qualitativi del campo, però uno non si deve affezionare troppo al concetto di linee di campo, è meglio ragionare in termini che il campo elettrico per esempio è una certa ricetta che vi dice esattamente come disegnarlo, che sono una cosa del genere, questo è una rappresentazione seria, quella di fare tante linee così, è una rappresentazione molto molto artistica, però cosa cattura questa rappresentazione qui? Cattura delle cose interessanti, se voi mettete un dipolo elettrico qui, lui si orienterà in questo senso, se mettete un dipolo elettrico lui si orienterà così, cioè il dipolo elettrico è proprio il modo per sondare la direzione del campo elettrico, e qual è l'altro vantaggio di avere linee così? Cattura un'altra cosa interessante, che se io conto questo con un cerchio con una sfera e conto il numero di linee che bucolano la sfera ottengo un numero, in questo caso cos'ho? se ho partito da questo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, se disegno un altro cerchio di raggio più grande, il numero di linee che tagliano la superficie del cerchio, della sfera, perché dovete pensare alla sfera, è lo stesso, quindi in qualche modo il fatto che in una delle linee che interseca la sfera è una costante, sta catturando poi il fatto che la carica elettrica genera un flusso di campo elettrico e quello è il valore, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie dipende dalla carica che è dentro ed è un valore, cioè se io ho una carica qua, in un certo modo di Q, qualsiasi superficie chiusa che la contenga avrà lo stesso numero, lo stesso valore, lo stesso flusso, carica interna di Y0 e quindi le linee catturano questo aspetto qui, però appunto quando le cariche sono così, quando avete una carica purtiforme, avrete sondando con le sonde visto che lo sapete, non continuo su questo argomento, perché sono banalità, così, capite che per me è particoso, se non vi interessa, cambio argomento. Vorrei un attimino fare qualche ragionamento sulla legge degli ampere, vediamo se anche questo lo sapete, quindi se fate rumore vuol dire che lo sapete e cambia l'argomento. quindi stiamo parlando di magnetostatica, vedete che non sto per parlare magnetostatica, non voglio parlare per il momento del pezzettino che ha messo Maxwell, quindi qual è la legge di Ampere della magnetostatica? che ha messo l'argomento. l'argomento dice che preso qualsiasi curva chiusa, se calcolate la circuitazione del valore del campo di B, ottenete mu zero per la corrente di conduzione che è concatenata. quindi dovete sempre ricordare cos'è questo, quanto vale un zero, quattro più greco per 10 al meno 7, Farans su metro, ok? Henry su metro. Cominciate a avere questi numeri alla portata di mano. Allora, facciamo un semplice caso, pensiamo a un filo percorso alla corrente, un filo rettilineo. Allora, il filo, per essere un circuito, il filo, prima o poi, deve chiudersi all'infinito. Quindi, il discorso di un filo infinito dovete in realtà ricordare che è una specie di approssimazione, perché a rigore un circuito non può essere un filo rettilineo, perché deve chiudersi, no? D'accordo? Silenzio là in fondo per cortesia. Quindi io voglio discutere il comportamento di un campo magnetico, del campo magnetostatico, così vicino al filo che per me è come se fosse una retta. Cioè, sto ignorando, sono appunti molto vicini, molto così vicini rispetto al, rispetto a cosa? Rispetto, se volete, al raggio di curvatura che il circuito deve avere, perché devo chiudermi, no? Devo tornare indietro. Quindi io sono appunti così vicini che per me sembra una retta. quindi cerchiamo di tenere sempre i piedi per terra. Una volta che avete capito quello che sta succedendo, allora possiamo usare l'espressione si considera un filo rettilineo percorso la corrente. D'accordo? Quindi io voglio capire com'è il campo magnetico di un filo rettilineo, ovvero com'è il comportamento del campo magnetico per punti molto vicini al filo, talmente vicino che per me il filo lo tratterò nella idealizzazione che sia infinitamente lunga. D'accordo? Allora, vediamo se riesco a raccontarlo. Non voglio essere troppo prolisso, se no non la finiamo più. Allora, questo è il mio filo, d'accordo? Questa è una vista trasversale del filo. Vista trasversale. Cosa vuol dire trasversale? Dovete immaginare un piano e il filo sta intersecando il piano in maniera ortogonale. Ok? Questa è la sezione trasversale. Sezione trasversale. E immaginate che la corrente stia venendo in faccia a voi. e volete capire come è messo il campo B. Allora, è ragionevole che io scelgo a caso un punto, questo è un punto matematico, che ha una certa distanza dal filo. Eccolo qua. Come è messo il campo B là? Beh, possiamo fare alcune esclusioni. Per esempio, potrebbe essere così? Cioè potrebbe avere una componente che è radiale e una componente trasversale? No! Perché no? queste componente trasversale dovete immaginare, di nuovo per simmetria, io sarò molto più veloce, non voglio essere eccessivamente provvisto. Io considero tutti i punti che hanno la stessa distanza. Eccolo un altro. Per esempio, io questa qua l'ho fatta, se questo è il movimento radiale giro a destra. Allora, io dico, perché questo dovrebbe girare a sinistra? Girerà a destra anche questo? Cioè, un po' per simmetria, no? Per quale motivo bevo qua, avrei uno che non ha una componente trasversale? Perché questo dovrebbe essere radiale e questo no? Perché questo dovrebbe girare verso destra e questo invece verso sinistra? Quindi, cominciamo un po' a fissare le idee. Supponiamo che per qualche motivo misterioso vada a destra. Allora devo andare adesso un po' anche qua giù, non mi pare. Quindi avrò la stessa componente radiale. Perché? Perché non ho nessun motivo di credere che questo punto che ha la stessa distanza ma un angolo diverso, debba avere un valore diverso. Cos'è di speciale questa direzione? Quindi immagini fare lo stesso disegno qui. Quindi ci sarà una componente trasversa. Per quale motivo la componente trasversa dovrebbe essere diversa? Per quale motivo qua dovrebbe essere più lungo o più corto di questo? Non ho nessun motivo a priori. Quindi vado con l'ipotesi che siano uguali. Allora anche qua avrei il risultante che è così. Ma perché posso escludere che questi non ci sono? Perché se ci fossero, se ci fossero, se ce nemmeno uno anche qua, lo disegno per completezza, questa componente qua, che facciamo in rosso, queste componenti radiali, so che non ci possono essere. Perché? Se ci fossero componenti radiali, il campo in questo caso avrebbe un flusso positivo, non vi pare, attraverso per esempio una superficie che immaginate, la famosa lattina di coca cola, quella che avevo usato per il filo di carica. Immaginate la lattina di coca cola. Avrei, eccola qua la lattina e sto dicendo che nei punti qua, sto dicendo che c'è una componente radiale e quindi avrei un flusso. ma non posso avere un flusso. Perché il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa è sempre, sempre, sempre zero. Un altro modo per dirlo è che la divergenza del campo magnetico è sempre zero. Non ho mai in un punto frecce che escono in netto. Se ho frecce in un certo volume, se ho frecce che entrano, devo avere frecce che escono. Qua avrei un volume, ecco qua la lattina di coca cola, dalla quale uscirebbero delle frecce. Quindi non posso avere la componente rossa. Altra domanda. Per quale motivo dico che la freccia che ho disegnato sia nella lavagna? Non potrebbe essere così. Dunque, questa qua che esce dalla lavagna, vedete che ha una componente radiale, ma io dico che non può averla. Potrebbe essere così, dove è la composizione. Facciamo così. Stiamo escludendo che abbia componente che punta via dal filo. Perché avrebbe divergenze del suo zero. Potrebbero avere una componente lungo il filo? Delle tre possibilità. Per particolare al filo, trasversa al filo e lungo il filo. Qual è l'unica possibile che possiamo avere? Perché escludiamo questa qua, parallela al filo? Questa non potrà essere possibile. L'unica che potrà essere possibile sarà una componente trasversa. Pulisco il disegno perché fa un po' schifo. Sto cercando di farvi trovare un modo di giustificare questo fatto. Che in questo punto, questa è la sezione piano trasversale. che in questo punto il campo, se il filo sta uscendo, in realtà poi vedremo per un attimo che la freccia deve essere in questa direzione, non in quella. Ma il messaggio che sto cercando di dire è che l'unica direzione che B può avere è nel piano trasverso e deve essere trasversale. non può avere una componente radiale e non può avere una componente parallela al filo. Quella radiale è facile, la divergenza è zero. Qualcuno riesce a trovare un modo per giustificarlo prima dell'orale? Trovatelo voi, perché questa non è possibile. L'unica che c'è è questa qua. Trovate prima dell'orale una giustificazione dell'escludere che il campo B possa avere una componente parallela al filo. Cioè che in questo punto qua il campo non può essere così. Deve essere puramente trasversale, che là è difficile da disegnare. Prima dell'orale pensateci. Quindi a priori io dico com'è il campo qua? Potrebbe essere così. Escludo questa componente e sto escludendo questa. L'unica che c'è è questa. Quindi il campo non può essere così. Non può essere così. Non può essere così. Deve essere così. Perché in questa direzione e non di qua? Perché è così e non così? Questo tra un attimo. Notate che il campo, la corrente sta uscendo dalla lavagna. La corrente esce. Guardate, la corrente esce e io sostengo che il campo qui deve essere come sarebbero le mie dita. E non così. Lo vediamo tra un attimo. Una volta che pensiamo a questo. Ok. Ma adesso. In tutti i punti che hanno la stessa distanza. Sto cercando di disegnare il cerchio. Tutti i punti che hanno la stessa distanza. Io sto sostenendo che il campo qui deve essere trasversale a questa direzione qua. Deve essere in questa direzione. E deve essere nella direzione data dalle mie dita se metto il pollice come la corrente. Ma per quale motivo pensare che la freccia in questo punto sia di modulo diverso? O che questo qui magari sia più piccolo? Quindi parto dall'ipotesi. Ragionevole. Non ho nessun motivo di credere che il modulo qua sia diverso dal modulo qua, sia diverso dal modulo qua. Faccio l'ipotesi che i moduli siano uguali. Quindi faccio l'ipotesi che se questo va in cerchio. Questo è il filo con la corrente. Faccio l'ipotesi che i moduli dei campi, nei punti che hanno la stessa distanza dal filo, che i moduli siano uguali. Tutti i punti, questo punto qua, stesso modulo. Che sia un campo che è trasversale al cerchio. Per quale motivo questo dovrebbe essere diverso da questo? Ok? Quindi faccio l'ipotesi che abbiano lo stesso modulo. Però ho eliminato la possibilità che i campi fossero radiali e lungo il filo. Cioè, per ragionamenti di simmetria, ho motivo di credere che il campo sia solo trasversale. E sto ulteriormente sostenendo che il modulo sia indipendente dall'angolo. Quello che conta è la distanza del punto matematico dal centro. Quindi se prendo dei punti che hanno la stessa distanza dal filo, ovvero un cerchio, motivo di credere che i moduli siano uguali. Questa curva qua, diventa, prima nel contesto dell'esercizio di Gauss, parlavo di superfici di Gauss, superfici che coglievano la simmetria dell'esercizio che io costruivo, disegnavo e piazzavo in maniera intelligente. Dovete adesso immaginare che la curva su cui io calcolerò la circuitazione è un cerchio. Ma la scelta del cerchio è una scelta intelligente. Perché tutti i punti del cerchio hanno la stessa distanza al filo. Perché deve essere chiaro che se questo è il filo, e questa è una curva chiusa di forma qualsiasi, se io vi chiedo qual è la circuitazione lungo questa curva strana dv prodotto scalare per R, io so per la fisica che questo è uguale a mu0 per I, dove I è la corrente che sta girando qua. E' quello che mi dice la matematica. Ma è questo pezzo qui che io sto cercando di scrivere in maniera intelligente per poter studiare la dipendenza dv dalla distanza dal filo. Ma da qua questa è una scelta infelice, perché questo punto ha una distanza diversa da questo punto. Invece questi punti qua hanno tutti la stessa distanza. Quindi questo signore qua, questo signore qua, certo la fisica mi dice che è mu0I, questo è fisica, la legge di Ampere. Ma se io gioco con la simmetria io riesco a calcolare questo matematicamente invocando la simmetria dell'esercizio. perché quello non è più una curva qualsiasi, ma mettiamo cerchio di Ampere colossiale. Ok? Quindi questa è l'eguaglianza, è un conto di matematica ispirato alla simmetria. e qual'è la simmetria? E' la simmetria cilindrica ma con questa richiesta qua, che le frecce non abbiano divergenza, devono essere trasversali, oltre a che non essere paralleli al filo, devono essere nel piano trasverso. Disegnato un piano trasverso il filo, il B sta in quel piano, non sbuca dal piano. e non hanno divergenza, non si allontano dal filo, sono trasversali le frecce. Quindi questo conto qui diventa facile, perché è il valore comune di tutti i punti che hanno questa distanza di, ok? Il valore comune, moltiplicato per la circonferenza della curva di Ampere, di cerco di Ampere. Quindi questo è 2T greco, la circonferenza è questo ed. Cos'è una circuitazione? Una circuitazione, in ultima analisi, cos'è una circuitazione? Una circuitazione è una limite di rompertura sommatoria di tanti vettori Bi prodotto scalare ΔRi, dove questi sono spostamenti lungo la curva. E siccome gli spostamenti lungo la curva, se io mi sposto in questa direzione, se questo è uno spostamento magari con un colore diverso, se questo è uno spostamento, in blu, se questo è uno spostamento, io sto facendo il prodotto scalare di questo vettore con un altro vettore che è trasverso. Quindi questo vettore B qua e questo vettore sono paralleli. E quindi ci sarà un prodotto scalare positivo. Se aggiorniamo la freccia bianca in questa direzione, avrei avuto un valore negativo. Per quello io metto le frecce bianche così, seguendo le mie dita, no? Cioè la corrente e il mio pollice, le mie dita è così, quindi io sostengo che il B è trasverso, d'accordo? Ma va di là, non di qua. Perché andando di là avrò un prodotto scalare positivo e quindi questa cosa è positiva. Ma attenzione, come avevo assegnato il segno qua? Vedete come i concetti sono legati assieme. Cos'era la corrente I? Era la corrente concatenata, giusto? Ma la corrente concatenata ha un segno algebrico. Perché dipende da come girate sulla curva. Quindi se questo è positivo, state dicendo cosa? Che la corrente sta tagliando la superficie. Dobbiamo cercare di legare questi concetti assieme. Dobbiamo fare il disegno di qua. Dovete ricordare che la legge di Ampere, sta dicendo che questa roba qua ha un segno algebrico. Può essere positivo ma può essere negativo. Quando è che è positivo? È positivo quando la corrente concatenata, concatenata, la corrente che sta passando attraverso questa superficie ha un flusso, Questa è la corrente concatenata. È il flusso di J attraverso quale superficie? Una qualsiasi superficie si appoggia su C. Questa è la C, ok? Pensate a tutte le superfici che si appoggiano su questa curva. Questa è la parte che esce dalla lavagna. Tra le infinite superfici, quella che è più conveniente per capire le leggi di Maxwell, è quella tesa come un tamburo, siamo d'accordo. Ma questo qua, questo elemento di area qua, della superficie S, come lo orientate? Vi ricordate? Dovete prendere la decisione su come girare sulla curva. Quindi, una volta che voi fate la scelta di girare la curva così, questa elemento di area è fatta così. Adesso, se viene fuori che questa è orientata così, e la J è orientata in questa direzione, cosa state dicendo? Avrete un valore negativo. Perché il protoscolare di questo, per questo, sarà negativo. e quindi avrete questa cosa qua, che è negativa. Ma cosa vuol dire che è negativa? Cosa vuol dire che è negativa? Questa, essendo negativa, comporterà che la circuitazione di P è negativa. Vediamo di andare avanti, forse riesco a trovare un modo per convincere di questo fatto. Perché non volevo farlo adesso. Ritengo di averlo già fatto, non voglio ripeterlo. Quindi, io sostengo che il calcolo, invocando la simmetria della circuitazione di B, è uguale al valore comune di B per la misura dell'insieme su cui state integrando, cioè la misura della curva, cioè la circonferenza della curva. La curva è un cerchio, la lunghezza della curva è quindi la circonferenza. Qual è il raggio della curva? L'ho chiamato B. Qui nella circonferenza di questo benedetto cerchio di ampere è 2πd. Questa è la mia valutazione dalla parte sinistra, basandoli sulla matematica. La fisica mi dice che questo è uguale a μ0I. E quindi cosa concludo? Concludo che la dipendenza del campo B dalla distanza, è uguale a μ0I diviso 2πd. I gessi fanno proprio schifo. e quindi le mie frecce sono così. Se questa è la corrente che mi esce in faccia, io disegno alcuni cerchi. Questo è un cerchio per guidarmi nel disegno. Questo è un cerchio di diametro doppio, di raggio doppio. Questo è un cerchio di raggio triplo. Il campo magnetico, la freccia B che disegnerò in questo punto, che disegnerò in questo punto, che disegnerò che so in questo punto, devono scalare secondo questa legge qui. la direzione di B in questo caso, se la corrente sta uscendo, deve essere in questa direzione. La direzione qua deve essere così. La direzione qua deve essere così. Ma una volta che disegno una freccia liberamente, le altre due non possono essere disegnate liberamente, perché c'è questa legge che mi dice come i moduli devono scalare con la distanza. Quindi mi conviene disegnare la più lunga prima, decidere abitariamente qual è la freccia più lunga e poi farla più corta. Quindi disegno questa qua. Perché questo avrà il modulo maggiore? Perché si trova la distanza, la più piccola delle tre distanze, e quindi essendo nel denominatore avrò la freccia in modo più grande. Quindi io disegnerò la freccia in questo modo, track. Ok? Questo è il valore di B in questo punto. In questo punto qua il valore di B è la stessa freccia però in questa direzione. perché? Ok? In questo punto sarà così. Ok? In questo punto come lo devo disegnare? Sarà in questa direzione perché è trasversa, sarà data dalla mano destra perché è quello che mi dice la legge di Ampere. La legge di Ampere mi dice che la circuitazione è questa, quindi sarà corrente e sta uscendo la mia circuitazione deve essere positiva. che vuol dire maledizione? Beh, ostrega non vuol dire maledizione, vuol dire perbacco! Perbacco! Se la corrente esce di qua, perché deve essere di là? Perché la circuitazione deve essere positiva? Se la freccia deve essere così sarebbe negativa, no? Pensateci! Qui la freccia deve andare di là, in senso, chiamiamolo, anti-orario. Ma qual è il modulo della freccia? Siccome questo punto ha una distanza doppia di questo, il modulo qui deve avere metà. Quindi, se questo è il valore pieno, voglio solo verificare di aver fatto decentemente, questo è il valore pieno, la metà è circa qua. E' così. In questo punto sarà così. E' questo punto qua, sarà un terzo di questo. Perché mettendo una distanza tripla ho un terzo. quindi se questo è il valore pieno, cercherà un terzo, sarà forse così. Più o meno, sì dai. Ok, questo è un terzo di questo qua. Se questa corrente è positiva, se questa corrente è positiva, allora questa curva qua l'oriento così. Quindi i miei spostamenti da qua a qua, 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 da qua qua. Questo qua, questi sono spostamenti, io sto spostandomi lungo questa curva chiusa in questo modo perchè se questa è la direzione positiva della corrente, vuol dire che sto orientando la curva in questo modo Ma dire che ho orientato la curva in quel modo e questo deve essere positivo vuol dire che le d devono essere messe così, nella stessa direzione degli spostamenti C'è qualcuno che non lo capisce questo? Bene, tutti lo capiscono Quindi forse un modo un po' più pulito di fare il disegno che approfitto ai prossimi minuti e fare una cosa del genere Questo è il filo, di nuovo disegno i cerchi In questo punto ho una freccia così In questo punto ho una freccia così In questo punto ho una freccia così Quindi questo è un andamento 1 su R Ok? E se il filo invece di essere di sezione puntiforme Se il filo fosse ciccione Se questo fosse il filo E se la densità di corrente qua Fosse una costante Se la corrente qua dentro, la densità di corrente fosse uscente ma fosse uniforme Quindi magari lo disegno così Con tanti punti messi in maniera regolare Cioè sto mandando il messaggio che la densità di corrente dentro il filo fosse uniforme Vuol dire Z? Z esce dalla lavagna? Come sarebbe la corrente? Per i punti esterni il filo è 1 su R E per i punti dentro il filo come sarebbe? Questo è il filo di raggio R Ok? Legge di Gauss Legge di Ampere Per un cerchio di Ampere Concentrico Al filo si intende Questo per simmetria E' Br2π L'ho chiamato D Chiamiamolo R ma perché non mi piace D più di tanto L'ho usato all'inizio Per me R qua è la distanza del filo Vi confonde? Rimettiamo D Quello è il valore del flusso dal punto di vista matematico Della circuitazione Quello è il valore della circuitazione dal punto di vista matematico Sto sfruttando la simmetria Tutti i punti alla stessa distanza dall'asse del filo Condividono il valore di V Silenzio là in fondo Quindi la circuitazione è il valore comune per la circonferenza del cerchio di Ampere D'accordo? Ma la fisica mi dice che questo è uguale a Mu0 per la corrente concatenata E la corrente concatenata se il cerchio di Ampere ha un diametro più grande del raggio del filo La corrente concatenata è la corrente del filo Mu0 lì Ma se il cerchio di Ampere ha un raggio più piccolo del raggio del filo La corrente concatenata non è tutta la corrente Quindi questo è Mu0 la corrente concatenata e mi sta bene Ma qua ho due tipi di situazioni O quando R è maggiore di R grande E quando R è minore di R grande Quando R è maggiore o uguale a R Allora la corrente concatenata è proprio uguale alla corrente del filo Ma quando R piccolo è minore del raggio del filo La corrente concatenata è minore della corrente del filo No? E la corrente concatenata cos'è? E' la corrente che sta fluendo qua dentro Magari lo faccio in blu Questa è la corrente che sta uscendo dalla lavagna Questa roba qua che esce dalla lavagna Non è concatenata con questo cerchio Questa parte qua è concatenata E quanta parte della corrente è concatenata? Se la densità di corrente è costante E' molto semplice no? La corrente concatenata è uguale a J0 Per l'area di questo cerchio di ampere E quant'è l'area di questo? E' pi greco R quadro E' pi greco R maiuscolo Dove essere chiaro che se la sensazione del filo è un cerchio La corrente è J0 per l'area del cerchio Ma quando il cerchio è R grande è tutta la corrente Ma se il cerchio è più piccolo di R grande Se il diametro del cerchio è più piccolo del diametro del filo L'area è più piccola E quindi la corrente concatenata è Cj0 per l'area più piccola Quindi ecco che abbiamo Continuo a chiamare G ed R Perdonate che sono stanco Quindi questo diventa D D Questo è R quadro il raggio del filo Mi secca cambiare notazione però La scelta di D all'inizio era infelice Perchè istintivamente lo chiamo R Solo quando sono molto stanco rischio di cambiare Sono stanco e quindi sto facendo casino Quindi il raggio, la dipendenza, il campo magnetico Dalla distanza del punto dall'asse del filo A due valori no? A seconda che la distanza sia Maggiore o uguale del raggio del filo Ed è in questo caso Allora Mu0I diviso 2πd E quando invece la distanza è minore del raggio del filo E cos'è in questo caso? Allora lo prendo da questa formula Ho il valore comune Per la circonferenza del cerchio di Aper E' uguale a Mu0 per la corrente concatenata Quindi ho OJ0 Pi greco Distanza al quadrato Vedete? Pi greco va via E quindi ho il valore di D In funzione alla distanza Vedete che qua ho il 2 Quindi ho il 0 diviso 2 J0 D Vedete? Per dimostrare che è proporzionale alla distanza E quindi E quindi Mmmmmmmmmmmmm Questa distanza È proporzionale Quindi sta va su linearmente e poi qua cala 1 su R Il campo B proprio lungo l'asse del filo è 0 poi cresce linearmente più ci si allontana dall'asse del filo fino ad arrivare al diametro del filo per punti più distanti dall'asse del filo a una distanza maggiore del raggio del filo il campo magnetico comincia di nuovo a scendere con un andamento però 1 su D, 1 sulla distanza Questo è nel caso, attenzione, che la densità di corrente sia uniforme ok? Fate il caso che la densità di corrente sia a priori così ma che dipenda dalla distanza dall'asse mannaggia sto R come cambierebbe il campo magnetico all'interno del filo? Quadratico no? Se la corrente fosse esclusivamente limitata all'esterno del filo cioè se voi avete un filo e la corrente è tutta qua e tutta sulla pelle del filo il campo magnetico dentro il filo sarebbe 0